Cosa succederà al nostro mondo? Partiamo dal secolo che va da 900 a 800 anni fa, la cui storia sembra essere svanita all'improvviso. La storia non è che un racconto, e io sono venuto a conoscenza di una parte del racconto di quei 100 anni. Il protagonista di questa storia nacque 900 anni fa in un regno estremamente civilizzato, un uomo che proprio come il dio del sole Nika, venerato ad Elbaf, combatteva deformando il proprio corpo. Il suo nome era Joy Boy, la prima persona al mondo a essere chiamata pirata. Picciotti, bentornati. Oggi parliamo di uno degli argomenti più caldi dopo il capitolo 1114 di One Piece, ovvero Joy Boy. In quest'ultimo capitolo abbiamo avuto, diciamo, delle piccole news per quanto riguarda Joy Boy direttamente dal nostro scienziato Vegapunk. Ovviamente la maggior parte delle cose sono state una novità, più che altro per i cittadini del mondo di One Piece, non tanto per noi, però qualche piccola info per noi c'è stata anche. Iniziamo quindi con l'analizzare le parole dello scienziato. Stando a quello che dice Vegapunk, stando quindi a quello che ha studiato, questo tizio, Joy Boy, nacque tra 900 e 800 anni fa e faceva parte del famoso regno antico. Inoltre aveva il potere, proprio come il dio del sole Nika di Elbaf, di deformare il suo corpo a piacimento. Ora voglio subito mettere in chiaro una cosa, la provenienza di Joy Boy, perché stando alle prime traduzioni ovviamente errate del capitolo, molti hanno inteso che Joy Boy fosse di Elbaf. In realtà Vegapunk nomina Elbaf quando parla del dio del sole Nika, perché lui dice che esattamente come il dio del sole Nika della terra di Elbaf, lui combatteva allungando il proprio corpo e deformandolo a suo piacimento. Quindi è Nika che è di Elbaf. Joy Boy al momento non sappiamo esattamente da quale nazione provenisse, sappiamo che faceva parte di quel regno. Quindi per via di queste traduzioni errate, molti hanno dato per scontato che Joy Boy venisse da Elbaf e quindi c'è stato il toto, il toto fesserie, perché tutti hanno iniziato a dire ah ecco quindi confirmed Joy Boy era un gigante, ecco perché il cappello nella stanza refrigerante di Imu è gigante, perché apparteneva un gigante. No, non c'entra niente, non è affatto stato confermato che fosse un gigante, anzi è stato confermato il fatto che fosse un essere umano, perché Vegapunk dice che è stato il primo uomo a prendere il mare, il primo a essere definito pirata. Quindi sappiamo che Joy Boy in realtà fosse un uomo, un essere umano. Il cappello gigante, chiaramente prima ci stava che si facessero le teorie sul fatto che potesse appartenere a un gigante, io stesso prima credevo che fosse un bucaniere, Joy Boy, ma in One Piece ragazzi abbiamo visto tantissimi esempi di umani sproporzionati. One Piece ci sono, cioè Doflamingo è alto più di tre metri, Big Mom arriva quasi ai nove metri, New Gate arriva quasi ai sette, quindi non è una novità se dovesse esserci un umano dalle dimensioni molto simili a quelle di un gigante o comunque di un bucaniere, quindi il cappello gigante non giustifica niente. Ecco ma chiaramente la cosa che è stata confermata che lui fosse il primo pirata della storia ha gettato una serie di domande. Io per esempio la prima domanda che mi sono fatto è ma quindi perché ha preso il mare? Se il regno antico era così prospero, così avanzato, così felice, perché c'è stato bisogno che qualcuno diventasse un pirata per affermare la propria libertà? Ecco io mi sono detto a quel punto che probabilmente il Joy Boy dell'epoca era molto simile caratterialmente al Luffy di oggi e quindi cercare una risposta a ogni domanda, a ogni suo comportamento potrebbe essere inutile. Mi spiego meglio. Pensateci perché Luffy parte e diventa un pirata? Per affermare la propria libertà, Luffy dice che vuole essere l'uomo più libero del mondo e soltanto essendo un pirata riuscirebbe a fare questo. Però effettivamente dove viveva lui? Al villaggio Fusha? C'era un qualche tipo di oppressione? C'era un qualche tipo di schiavitù? Assolutamente no, però Luffy comunque parte e fa il pirata, non per mettersi contro il governo, non è che Luffy parte e dice io sconfiggerò tutta l'oppressione, no, Luffy parte dice io voglio essere l'uomo più libero del mondo. Quindi Luffy parte senza l'intenzione di andare contro il governo mondiale, contro le istituzioni, però di fatto le sue azioni lo portano a fare quello effettivamente. La sua naturalezza lo porta a fare quello. E quindi io penso sostanzialmente che sia successa la stessa cosa con il Joy Boy di 900 anni fa. Lui è partito per affermare la propria libertà, è partito perché voleva essere libero, voleva esplorare il mondo, voleva prendere il mare e probabilmente il suo desiderio di libertà gli ha fatto infrangere delle leggi e quindi gli è stato affibbiato lo status di pirata, il primo pirata della storia. Poi Vegapunk ci dice che lui allungava il suo corpo, quindi abbiamo la conferma ufficiale che il Joy Boy di 800 anni fa ha mangiato il frutto Ito Ito modello Nika, lo stesso frutto che ha mangiato oggi Luffy. Come l'ha mangiato? Anche qui mi viene da pensare che fosse simile a Luffy la circostanza, cioè totalmente a caso. Com'è che l'ha mangiato Luffy? Sì, poi abbiamo capito che c'era un piano dietro al furto di Shanks, però Luffy com'è che lo mangia? In quel momento è arrabbiato perché viene preso in giro da Shanks, trova un baule, lo apre, trova la prima cosa che capita e la mangia perché è affamato, perché è arrabbiato. Penso che sia successa la stessa cosa con Joy Boy, Joy Boy lo ha trovato per caso, lo ha mangiato e ha assunto i poteri della divinità del sole Nika. Penso questo anche perché il frutto ha dimostrato di avere una volontà propria, questo appartiene un po' agli Zoan e i Gurusei ci stanno provando da 800 anni a ottenere quel frutto, a mettere le mani addosso a quel frutto e non ci sono mai riusciti e dicono che è come se il frutto sia sempre scappato da loro e quindi a maggior ragione penso che Joy Boy non l'avesse cercato perché sembra più che altro che questo frutto più lo si cerchi più lui scappa, quindi nella naturalezza delle cose, degli eventi, tutto è andato come doveva andare e lui lo ha mangiato per caso, questo è quello che penso. Ora però non voglio distogliere l'attenzione dall'importanza della figura di Joy Boy, perché va bene che io lo reputo molto simile a Luffy, però il fatto che lui sia partito per affermare la propria libertà indica necessariamente che fosse semplicemente un pazzo che desiderava essere libero senza regole e che quindi nel mondo ai tempi non ci fosse nessuna ingiustizia, nessuna istituzione malvagia, nessun conflitto politico? Ma assolutamente no, chiaramente visto che il tutto è culminato con una guerra durata un secolo tra novecento e ottocento anni fa vuol dire che i conflitti politici tra nazioni esistevano ben prima della nascita di Joy Boy e quindi quello è stato soltanto l'apice del conflitto che poi è culminato con una grande guerra quindi i problemi c'erano e come. Ecco ma qual è stata la causa di questo conflitto tra il regno antico e i venti re che gli si sono opposti? Io su questo penso di avere le idee molto chiare da qualche capitolo ormai da quando Vegapunk ha detto io non so se lui, riferendosi a him, sia malvagio quindi se mi uccidono non fate sì che il vostro cervello sia invaso dalla cosa ah, lo hanno ucciso, allora cattivo. Quindi Vegapunk ha detto un po' una cosa simile ma non uguale a quella di Rayleigh. Rayleigh disse anche se io vi dicessi la verità sul mondo non è detto che voi arrivereste alle stesse conclusioni a cui sono arrivati i pirati di Roger perché? Perché evidentemente c'è un'interpretazione dei fatti, non ci sono soltanto i fatti e quindi la conferma dell'idea che già avevo qualche capitolo fa e che adesso vi dirò è arrivata con il capitolo 1114 perché quando viene inquadrata Mother Flame vediamo una scritta in alto A-E-MU che in giapponese si legge A-To-MU, Atomu, Atom quindi Mother Flame non è altro che un rimando all'energia nucleare. Noi sappiamo che l'antico regno era sviluppato e avanzato tanto quanto o addirittura di più di Egged e io penso che quello sviluppo, quell'incredibile progresso eccezionale che loro avevano raggiunto lo avessero raggiunto grazie all'utilizzo dell'energia nucleare la stessa energia antica che Vegapunk ha studiato ovvero Mother Flame, la fiamma madre però ovviamente la grande legge di questo mondo è che niente nasce malvagio però l'uso di qualcosa può essere malvagio e quindi io penso che ai tempi del regno antico loro avessero sviluppato avessero instaurato un grandissimo progresso scientifico e tecnologico grazie all'energia nucleare ma c'erano anche dei lati negativi lati negativi dovuti al cattivo uso di quell'energia per esempio la creazione di armi pericolose o la devastazione della natura e quindi penso che i venti re che si sono opposti al regno antico fossero contrari all'utilizzo di quell'energia ma non contrari perché odiavano il progresso e volevano restare indietro contrari perché probabilmente stavano iniziando a vedere che il regno antico stava iniziando a utilizzare quell'energia non solo per il progresso positivo ma anche per qualcosa di molto pericoloso creazione di armi e non solo può darsi anche che loro si siano accorti che l'utilizzo eccessivo di quell'energia stava portando il pianeta a deteriorarsi sempre di più questo quindi potrebbe voler dire che in quell'antico regno tanto idolatrato potrebbe esserci stato qualcuno che aveva intenzione non soltanto di portare progresso ma di portare anche morte ecco perché Rayleigh dice che tutto è interpretabile che non c'è una verità assoluta perché non c'è nero e bianco ci sono diverse sfumature quindi a mio parere nell'antico regno che secondo me funzionava un po' come il governo mondiale di oggi in quanto a organizzazione politica potevano esserci quattro categorie di persone coloro che favorivano lo sviluppo del regno attraverso un buon uso dell'energia nucleare coloro che usavano quell'energia per creazioni pericolose quelli che temevano questi ultimi e quelli che erano bigotti su quel tipo di energia a prescindere dall'utilizzo quindi queste ultime due fazioni che ho elencato potrebbero aver unito le forze per abbattere le prime due ma perché penso questo? perché penso che nell'antico regno non era tutto rose e fiori? perché c'erano alcuni oppositori dell'antico regno che però non hanno usufruito di tutti i benefici e di tutte le conseguenze favorevoli di quella che è stata la guerra secolare la guerra del secolo vuoto mi riferisco a Nefertari Lili Nefertari Lili era un membro della D e i membri della D sono nemici dell'attuale governo mondiale nonostante questo lei però è andata contro il regno antico fa parte di quelle venti corone che hanno distrutto il regno antico però nonostante questo ha rifiutato di andare a insiedarsi a Merigioa e ha rifiutato che la storia venisse sepolta ha diffuso in tutto il mondo i ponglif affinché la verità venisse di nuovo a galla e affinché il mondo che sta sprofondando nel mare abbia una nuova alba quindi sostanzialmente quello che sto dicendo è che una come Nefertari Lili potrebbe aver condiviso la lotta contro il regno antico ma quello che non ha condiviso quello che non ha accettato è stata la censura della storia perché è sbagliato censurare la storia la storia serve per non ripetere gli stessi errori ed è per questo che io penso che il governo mondiale nasconda la storia e cerca di evitare che ci sia un altro progresso scientifico come quello del regno antico sostanzialmente perché ha paura di quell'energia ha paura di quel progresso e probabilmente ha paura anche di quello che diventerebbe il mondo con quel progresso d'altronde il mondo di One Piece è stranissimo ci sono creature strane ci sono i frutti del diavolo c'è il magnetismo tra isole e il governo mondiale non è che si tiene quel progresso per sé il governo mondiale ha deciso che il mondo deve rimanere nella retratezza adesso stiamo vedendo qualche piccola invenzione all'avanguardia con i Seraphim o col fatto che loro ora abbiano utilizzato Mother Flame per distruggere Lulusia quindi non è che c'è soltanto una lotta di tipo egoistico potere tuo o potere mio il governo mondiale ha distrutto il regno antico e poi zero progresso in tutto questo c'è la grande figura di Im Sama qual è il ruolo di Im in tutto questo? naturalmente io penso che sia il leader di quei venti re che buttarono giù il regno antico un leader che però chiaramente approfittò della paura e del bigottismo di qualche altro leader tra i venti per prendere le redini di una lotta serrata come quella del secolo buio è chiaro che Im sia un individuo malvagio ma semplicemente perché non si tratta soltanto di censurare la storia per paura qui si tratta di un individuo che ha appena distrutto una nazione ha appena praticato un genocidio e da 800 anni i draghi celesti praticano lo schiavismo e lo stragismo quindi non stiamo certo parlando di individui che sono dei santoni e quindi è chiaro che Im sia un individuo malvagio che oggi sta cercando di appropriarsi di quell'energia come dimostra il fatto che i Gorosei ad Egged non vogliono distruggere il power plant perché gli permetterebbe di creare Mother Flame e gli permetterebbe di riutilizzare di continuo quell'arma che hanno utilizzato contro Lucia contro altre nazioni per sittirle quando è necessario è chiaro che un individuo del genere non può che essere definito malvagio esattamente allo stesso modo di Im Sama che fu il leader di quei venti re che si opposero al regno antico dall'altro lato c'era sicuramente Joy Boy partito per la propria curiosità per la propria libertà ripudiando l'idea di essere un eroe probabilmente esattamente come la ripudia Luffy però di fatto diventandolo dinanzi alle circostanze della vita inoltre vi dico un'altra cosa qualche tempo fa Oda disse che prima o poi in One Piece sarebbe spuntato un certo pirata con la benda sull'occhio effettivamente lui disse che fino ad ora non ha mai disegnato un pirata con la benda sull'occhio eppure è lo stereotipo più comune il pirata viene sempre rappresentato con la benda però in One Piece ancora non ce n'è uno ebbene Oda disse che quando fosse spuntato quel personaggio One Piece sarebbe giunto quasi alla conclusione quindi il personaggio con la benda sull'occhio sarebbe spuntato nella fase finale di One Piece ed eccoci qua secondo me il pirata con la benda sull'occhio sarà Joy Boy nel suo flashback vedremo quest'individuo con la benda sull'occhio ho pensato che proprio per il primo pirata della storia ci starebbe lo stereotipo più comune la benda sull'occhio questo è quello che penso sulla figura di Joy Boy e sul conflitto del secolo vuoto ora prima di darvi i saluti volevo precisare una cosa qualche giorno fa sul canale è uscito un video teoria fatto da Django che parla anche qua del conflitto dello sprofondamento del mare della figura di Im eccetera eccetera chiaramente Picciotti dovete capire che anche se io e Django siamo i fondatori di questo canale non è che abbiamo sempre le stesse idee quindi se lui in un video dovesse dire qualcosa non è detto che io in un video successivo fatto soltanto da me debba dire le stesse cose perché noi due abbiamo idee diverse e quando ognuno fa il proprio video esprime le proprie idee quindi questo lo dico perché non è che poi ci saranno dei commenti che dicono ah ma nel video di tre giorni fa avete detto un'altra cosa no ragazzi quando parla Django sono i suoi pareri quando parlo io sono i miei non è che siamo un cervello unico il video di Django comunque ve lo lascio qui sopra nelle schede in tutto questo spero che il video vi sia piaciuto io vi chiedo di commentare scrivendo che cosa ne pensate delle cose che ho appena esposto e noi ci vediamo alla prossima sayonara bene Picciotti il video termina qui speriamo che vi sia piaciuto se così fosse vi invitiamo a mettere un like condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video sayonara ciao